Questo è un paragone quasi inutile, serve solo come curiosità, non c'entra niente questo microfono con il Neumann U87. Questo è un Sennheiser storico di un'ottima annata, 1966, è stato costruito e uscito nel 1966, è ancora in produzione, costa più di 1000 euro ancora oggi, si chiama MD441U, fra le varie caratteristiche immediatamente accessibili ci sono un filtro passa alto e tre posizioni di equalizzazione, diciamo così, in cui il suono è più o meno scuro, o più o meno chiaro. È un microfono dinamico, con cardioide, quindi di fatto è un microfono che puoi utilizzare così, di fronte a un intervistato, in effetti questo microfono lo vedi molto spesso in mano ai giornalisti, oppure sul palcoscenico a riprendere strumenti o a fare da microfono per la voce, sul palcoscenico però non in studio, difficilmente in studio lo trovi se non per qualche strumento, ma non certo per la voce in studio. Beh, ti faccio vedere. Gli piace indubbiamente? Rispose Lord Henry. A chi non piacerebbe? È una delle migliori opere dell'arte moderna. Vi offro in cambio tutto quello che vi piace a chiedermi. Desidero possederla. Non mi appartiene Henry. E di chi è? Di Dorian, naturalmente, rispose il pittore. Fortunato mortale. Com'è tragico, mormorò Dorian Gray gli occhi fissi sul suo ritratto. Com'è tragico. Io diventerò vecchio, brutto, ripugnante, e questa immagine rimarrà sempre giovane. Giovane quale io sono in questa giornata di giugno. Oh, se si potesse realizzare il contrario. Com'è tragico, mormorò Dorian Gray gli occhi fissi sul suo ritratto. Com'è tragico. Io diventerò vecchio, brutto, ripugnante, e questa immagine rimarrà sempre giovane. Giovane quale io sono in questa giornata di giugno. Oh, se si potesse realizzare il contrario. Se io dovessi rimanere sempre giovane e il ritratto diventasse vecchio. Per questo, per questo darei qualunque cosa. Darei la cosa più preziosa del mondo. Darei anche la mia anima per questo. Se io dovessi rimanere sempre giovane e il ritratto diventasse vecchio. Per questo, per questo darei qualunque cosa. Darei la cosa più preziosa del mondo. Darei anche la mia anima per questo.